Lele piano di là non toccare i freni fino a quando sei prendi la larga tocca i freni quando sei a metà il davanti e non pinzare lì non pinzare il davanti lì lo pinzi in fondo tieni bene il dietro e piuttosto che lascia scappare via dietro perché arrivi qua allora culo indietro imposti davanti lo lasci andare e pinzi quando sei lì diceva nei piedi del gargamella prima e come ho fatto io voleva imitare gli uricchiechi ma non è capace guarda come si scivola io mi sono trovato a testa in giù volevi imitarmi ma c'è solo uno beh quasi ce la facevo però eh solo che gli girava anche la ruota ho detto se lo imiti gli va dentro gli stivali si ingrippa dentro tutto no è che tenevo con questa mano tenevo la frizione tirata oh oh fiocca un'altra volta teneva la frizione tirata in un anno succederà forse tre volte forse piano eh piano perché arrivi in fondo qua eh piano perché arrivi qua eh vieni scendi piano allargalo un bel po' basta lascialo andare e fare come lui non riuscirai mai questa è la manovra zampini quando uno quando non riesce a scendere con il davanti devi scendere col culo indietro punto chiamasi manovra zampi vedi a posto questo è ancora il frank devi andare di là dai vito io volevo per la verità volevo passare lì in mezzo eh dimmi tutto perché ha le api frank ti ho detto sopra la ferrovia dove vedi sotto la cascina volpe ma dove cacchio sei andato ma porca lor ma sei tre baseite adesso allora no allora aspetta 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 ascolta fa una roba se sei lì alle api prendi prendi la la tarda della volpe scendi giù fino in fondo non fare tutto il giro perché noi adesso arriviamo lì alla tarda della volpe all'imbocco giù sotto in basso dove c'è il fiume quindi scendi da lì addirittura che ci trovi se non ci vedi al volo arriviamo in su perché stiamo venendo su a pulire tutto quando ci sarà giù caduto quindi scendi da lì che fai prima ok ciao 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 no il piano hai visto no no adesso non so cosa non so cosa troviamo di lì e quindi ho detto scendiamo puliamo da sotto che da sotto bene o male riusciamo sempre da sopra dopo diventa un cinema è arrivato da dove è arrivato da dove è arrivato non lo so però è arrivato è arrivato tutto secondo me è arrivato da vedere deploy che però è arrivato invece di metteresse såd compte sono veramente davanti uno di nessuno già vicino